Tre giorni immersi nell'atmosfera natalizia dove i protagonisti principali saranno ovviamente cioccolato e visciolato, ma non solo, anche tanti altri prodotti tipici. Insieme a musica itinerante, animazioni per bambini e non, luoghi aperti da visitare a cura dei volontari della Proloco e anche appuntamenti sportivi a cura di corripergole e di bike therapy e il ciocco raduno, un raduno per tutti gli amanti che viaggiano in camper. Quindi sicuramente tre giorni pieni di attività, degustazioni, possibilità di assaggiare e acquistare i nostri prodotti tipici, di divertirsi e trovare tante idee regalo per il Natale. Nelle giornate di venerdì 8 e domenica 10 sarà a disposizione anche una navetta gratuita che farà la spola tra Pergola e Frontone, così che chi vuole avrà la possibilità di muoversi tra la festa di Pergola, l'evento di Pergola e il mercatino di Natale al castello di Frontone. Pergola è ormai diventata, oltre che patria del tartufo bianco pregiato, oltre che realtà importante a livello internazionale per i bronzi dorati da cartocetto, è una realtà molto importante per il visciolato. Sono diverse aziende che producono il vino di visciole e poi nella nostra provincia ci sono anche maestri cioccolatieri che hanno saputo abbinare il cioccolato con la visciola. Quindi due elementi molto graditi dai consumatori, dal pubblico, che ovviamente nelle giornate 8, 9 e 10 di dicembre riempiranno le strade e le vie della città di Pergola con cui noi siamo legati in maniera particolare per la gestione del museo di bronzi dorati, per la partecipazione fin dall'inizio del comune di Pergola al progetto itinerario della bellezza.